Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questa nuova rubrica che ho deciso di portarvi qua sul mio canale Innanzitutto questa rubrica uscirà ogni lunedì dalle ore alle ore appunto 16 Questa nuova rubrica che ho deciso di portarvi sul canale ho deciso di chiamarla Week News E sarà appunto una rubrica che appunto come vi ho detto prima uscirà ogni lunedì sul mio canale alle ore 16 A volte potrebbe un pochino ritardare o essere anticipata dipende anche dai miei impegni E in questa rubrica vi andrò a dire i vari eventi settimanali di ogni settimana appunto che andrò a fare il live sul mio canale Twitch insieme a voi Ovvero le varie live che andrò a fare sul mio canale Twitch dove andrò a giocare a vari giochi Nintendo insieme a voi E poi a fine ogni week news appunto ogni settimana a fine di ogni week news vi andrò a dire la news più importante della settimana Detto questo direi di non perdereci in chiacchiere vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale Attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video Se vi è piaciuto vi ricordo di seguirmi su Twitch che trovate il link in descrizione Perché tutte le live che vi andrò a annunciare in ogni settimana in questa nuova rubrica cioè la week news Le farò in live, le farò appunto sul mio canale Twitch quindi vi invito a seguirmi su Twitch che trovate il link in descrizione Detto ciò direi di partire Subito direi di partire subito ragazzi con la prima live che sarà su Mario Kart 8 Deluxe La farò oggi ovvero lunedì 17 gennaio dalle ore 18 alle ore 19 Andrò a giocare gara online insieme a voi su Mario Kart 8 Deluxe Visto il recente successo dell'ultima live che ho fatto circa due settimane fa Dove andavo a giocare gara online su Mario Kart 8 Deluxe e che siete venuti tantissimi di voi Ho deciso di rifarla domani, scusate oggi ovvero lunedì 17 gennaio dalle 18 alle 19 Poi ragazzi la prossima live che andrò a fare sarà mercoledì 19 gennaio Dalle 17 e 30 alle 19 andrò a giocare i vostri livelli su Super Mario Maker 2 Così andrò a sclerare e insomma in questa live proverò a fare i vostri livelli su Super Mario Maker 2 Diciamo che proverò anche a riuscire appunto a superarli e soprattutto a non sclerare Infine ragazzi l'ultima live di questa settimana sarà venerdì 21 gennaio 2022 Dalle 18 alle 19 e 30 andrò a giocare gare online insieme a voi su Mario Kart Wii ragazzi Ebbene sì, segnatevi diciamo questa data perché comunque è la prima live che andrò a fare sul mio canale Twitch Dove andrò riguardante appunto Mario Kart Wii ma soprattutto dove andrò a giocare a un gioco che ha quasi 14 anni Insieme a voi ovvero a Mario Kart Wii So che ovviamente non sarete in tanti perché è un gioco molto vecchio ma comunque ci tenevo a fare questa live almeno una volta sul mio canale Twitch Passiamo adesso invece alla news più importante della settimana ovvero a una news che riguarda Mario più Rabbids Sparks of Hope Gioco che è stato annunciato nell'E3 2021 gioco che appunto è stato annunciato nell'E3 dello scorso anno ovvero del 2021 E gioco che all'inizio avevano detto che usciva nel 2022 non avevano detto ancora di preciso il mese Ma avevano detto che comunque entro la fine del 2022 sarebbe uscito In realtà ragazzi girano notizie varie che diciamo la casa Ubisoft di Milano ha deciso di diciamo ha comunicato Ma non è ancora una cosa ufficiale ha comunque comunicato che vorrebbe avere più tempo per migliorare questo gioco Quindi molto probabilmente il gioco non uscirà nemmeno nella seconda parte del 2022 ma bensì nei primi mesi del 2023 Questa è ovviamente una news, è la news più importante di questa settimana ma diciamo che non è una news molto accertata Nel senso che poi fra un paio di settimane diranno la conferma se questo gioco uscirà a fine 2022 come appunto dovrebbe essere Oppure verrà rimandato all'uscita ai primi mesi del 2023 e quindi che ci sarà da attendere ancora un annetto per l'uscita di questo gioco Che è la seconda saga che riguarda la serie di Mario Plus Rabbits Detto ciò ragazzi spero che questo, che questo primo diciamo, primo video riguardante questa nuova rubrica che ho deciso di portarvi sul canale Ovvero il Wake News, insomma spero che questo video vi sia piaciuto Se così mi raccomando come sempre spolliciate, commentate, iscrivetevi e attivate anche la campanellina Tutti quanti i miei social li trovate voi sotto in descrizione Trovate in descrizione anche i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Wii Trovate in descrizione anche tutti i link utili per acquistare Super Mario Maker 2 in fisico digitale Oppure Mario Kart 8 Relax in fisico digitale oppure Mario Kart Wii in versione fisica perché digitale non esiste Io ragazzi vi do appuntamento nei prossimi giorni con queste 3 live di questa settimana Sul mio canale Twitch che trovate il link in descrizione in caso volete vedere, volete partecipare a uno di questi 3 eventi settimanali che vi ho appena annunciato Detto ciò ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video Ciao, ciao Ciao